Cloud-in, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud-in. In via Friuli, incastronato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7.14 e dalle 17.23. Cloud-in, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira perda, Collio e Quai. Sono Claudia Zano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Cloud-in, food, wine, music e sei in pole position. Un'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Gorizia per un traffico internazionale di stupefacenti in cui sono coinvolti anche 4 carabinieri, ufficiali di Polizia Giudiziaria e del Comando Provinciale di Gorizia che sarebbero indagati per i reati di depistaggio e favoreggiamento. La marijuana, circa 200 kg, era stata bloccata dalla polizia serba. L'indagine coinvolge altri 4 cittadini, due corrieri goriziani che a bordo di un camper intendevano portare in Italia la droga e due cittadini residenti a Gorizia che dovevano poi smerciarla localmente. Dal Comando Provinciale dell'Arma è stata soltanto confermata l'esistenza dell'inchiesta, ma c'è il massimo riservo, anche per delineare nel dettaglio il coinvolgimento dei singoli carabinieri nell'indagine. Un ragazzo di 25 anni di Coseano, in provincia di Udine, è stato multato per aver organizzato una manifestazione motoristica fuoristrada nelle campagne della località rurale friulana senza autorizzazione. Il tutto è accaduto domenica scorsa. Sono stati alcuni cittadini ad allertare le forze dell'ordine attraverso il numero unico d'emergenza 112. In pochi minuti sul luogo incriminato sono giunte due pattuglie dell'Arma rispettivamente delle stazioni di Maiano e Fagagna. Presente all'evento sportivo amatoriale una trentina di appassionati. Chiaramente la stessa è stata subito interrotta e dopo le pratiche di rito i partecipanti sono stati invitati ad abbandonare l'area e fare ritorno presso le proprie abitazioni. Ulteriori indagini in corso. Claudin, il nuovo locale alla moda nato a Corbons dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli incastronato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.